ciao ragazzi io sono davide benvenuti sul mio canale youtube oggi cerchiamo di rispondere ad una bella domanda ma è possibile tirar fuori un filmato professionale nell'ambito cinematografico con un drone che è un microbo e che pesa addirittura 180 grammi pronto al volo hg lrc ci regala il moto whoop 90 un microbo eccolo qui lo vedete in mano 90 mm da motore a motore che è in grado di tirarsi su le action cam naked quindi ultra leggere di ultima generazione come una smoo 4k o le classiche gopro hero naked volete vedere che cosa è in grado di fare restate qui con me e scopriamolo insieme il packaging dell'hg lrc è sempre molto molto elegante eccolo qui il moto whoop 90 vediamo cosa troviamo all'interno della scatola un batteri strap addizionale perché uno già lo trovate montato sul vostro drone un attrezzo per stringere le viti due duct di ricambio e questa è una cosa davvero molto interessante perché vi ricordo che i duct sono una parte molto fragile di questi cinewhoop quando si rompono è un delirio ritrovarli ebbene la hg lrc ce ne dà già due abbiamo un tool che ci consente di collegarci all'usb dobbiamo per forza utilizzare tool come questi ok che si collegano qui e vi consentono di accedere alla configurazione del firmware avete i grafici con tutti gli schemi per i collegamenti un set di eliche di ricambio che difficilmente cambierete perché sono veramente super protette le eliche sono a quattro pale della emax e sono le evan da due pollici hanno un bel pitch e non possono mancare diverse viti il moto whoop 90 è veramente piccolo vedete qui per esempio ho un beta fpv 95x questa è la versione v2 vedete ok addirittura è più piccolo di questo che già era bello piccolino questa che vedete tra le mie mani è la versione analogica c'è anche la possibilità di prendere la versione digitale anche se sulla carta non mi fa proprio impazzire perché la versione digitale monta la caddx vista proprio qua dietro quindi tutto questo pezzo è leggermente spostato sulla destra e tende a sbilanciare il baricentro che invece in questa versione analogica è ben strutturato perché tutto è montato qui al centro l'elettronica è tutta marchiata hg lrc la scheda è uno zeus 13 all in one un'unica scheda con tutto monta una vtx nano che grazie al protocollo irc trump potete andare a configurare direttamente con i vostri occhiali attraverso l'osd di betaflight e potete arrivare a una potenza massima di 350 millivatt che ragazzi per un cosettino così che non fa tanta distanza ve ne parlerò a breve va più che bene l'fpv cam è una run cam nano quindi la qualità mi è molto piaciuta devo dire la vedremo più a parte nel dvr ed è montata ed un unico supporto in tpu che regge anche la vostra action cam naked o light come la volete chiamare attaccata a questo tramite questa vite direttamente al drone una cosa che dovete stare attenti è regolatela in modo tale che la vostra run cam nano non tocchi ok i duct perché è montata molto molto vicina quindi controllate altrimenti tutte quante le vibrazioni che si generano nei duct vengono passate direttamente qui e potreste avere delle vibrazioni in più nel vostro feed fpv non manca il collegamento con il plug per alimentare le vostre action cam light o naked molto comodo avete un xt 30 potete montare delle batterie che vanno da 2 o 4s ma questo drone ragazzi si usa solamente con batterie 4s se no rischiate che nemmeno si alza e sono consigliate batterie che vanno da 300 a 450 mAh io l'ho testato con delle tattoo 4s da 450 mAh il frame in carbonio è un true x montato direttamente in modalità pusher questo ovviamente ormai lo sapete per limitare al massimo eventuali ritorni di aria e vibrazioni che potrebbero rovinare i vostri video cinematici perché cinematici perché questo è un micro drone ragazzi che è pensato per regalarvi filmati cinematici proprio in situazioni dove potete utilizzare solamente droni piccoli così questo è proprio un due pollici ragazzi guardate mi sta dentro una mano quindi se volete fare degli effetti particolari passando in pertugi piccolini oppure girare scene totalmente innocue vicino alle persone e questo ragazzi potrebbe essere un'ottima soluzione tutto è montato con estrema qualità l'antennina è bella protetta non si romperà mai qui dietro ragazzi è un po incastonata ma ripeto questo è un drone che non ha un'autonomia perché con le 4s da 450 mAh non sono riuscito a fare più di tre minuti e mezzo e quando lo spingo pure un pochetto addirittura ho fatto meno di tre minuti quindi non è un drone che ha una forte autonomia i motori sono dei 1303 da 4500 kv sempre dell'HGLRC e devo dire che questi motori non surriscaldano ok però li ho sentiti che faticano un po' a tirarsi su il tutto specie quando ci mettete pure il peso addizionale di una action cam naked qui davanti ecco perché non so quanto questa soluzione funziona in digitale dove dovete calcolare anche 20 grammi in più dovuti a questa tecnologia la ricevente è montata qui sotto quindi riuscite a bindarla questo è un drone che potete prendere bind and fly con tutti i protocolli che volete ci stanno tutte le soluzioni possibili e se volete potete pure prenderlo senza ricevente e la ricevente ce la montate voi io ho preso quello per protocollo crossfire vedete infatti c'è l'immortal team montata qua dietro abbastanza protetta al contrario di altre soluzioni che non adottano l'immortal team ma vanno a incollare le antenne direttamente ai duct e quindi si risparmiano pure qualche grammo questa soluzione vi arriva direttamente con l'immortal t che non mi dispiace perché ragazzi l'immortal t è un'antenna ultra resistente qui sopra avete un battery pad antiscivolo per la vostra lipo che si monta vedete trasversale il tutto per mantenere il centro sempre molto bilanciato i duct non mi danno l'idea di essere molto resistenti sebbene sono belli spessi ok forse per questo che l'hgl rc ce ne dà due di ricambio finora ci ho fatto tre crash ma hanno resistito vedremo che ci dirà il futuro addirittura non so se lo vedete ma c'è un condensatore montato pure qua dentro non hanno pensato ad un tuning adeguato quindi vi arriva con betaflight 4.2 di default adesso vi faccio vedere anche come vola sicuramente non è il massimo a tal riguardo visto che ce l'ho avuto fra le mani ho fatto un tuning con la black box che vi lascio sul mio patreon qui sotto in descrizione l'esc della scheda all in one arriva a supportare anche fino a 6s quindi ragazzi anche se qui vi ricordo potete andare ad un massimo di 4s state tranquillissimi per quanto riguarda il voltaggio l'esc supportano blli 32 ragazzi quindi potete attivare direttamente l'rpm filter su questa build che non dovete configurare a 14 poli che sono il numero dei magneti del motore ma questi essendo motori più piccolini dovete ricordarvi di mettere 12 poli qui dietro ci sono i supportini se avete una soluzione con una ricevente con antenne al filo se avete un immortal t come la mia questi li potete tranquillamente togliere direi ragazzi che dal banco è tutto per questo due pollici vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti quanti i link se volete comprarlo o se volete comprare le batterie che consiglio e adesso non ci resta che andare a vedere come vola questo che state vedendo ragazzi è il dvr della runcam nano che vedete c'ha comunque dei colori molto molto buoni vedete che il feed traballa questo perché lo sto provando in una giornata ventosa e che comunque ha il suo tuning di default l'osd che vedete è quello che viene già configurato dalla hg lrc questo è il tuning mio quindi potete vedere che una volta che ci mettete le mani va abbastanza dritto e quindi questa è una cosa molto molto buona questo che state vedendo è il raw direttamente registrato dalla naked hero 6 che sto montando in alto a destra ho messo anche l'osd vedete che traballa parecchio il video però non ci sono fenomeni di yellow non è stata applicata assolutamente la color correction e così come esce dalla camera questo che state vedendo invece è lo stesso esempio di prima però stabilizzato con real steady go sempre la color correction è ancora da applicare guardate real steady go che il risultato sorprendente raggiunge perché elimina tutte quante quelle piccole oscillazioni che avevamo prima questo è un esempio sempre di raw della hero 6 dopo il tuning che ho fatto io con la black box vedete che va abbastanza dritto nonostante nonostante il vento quindi una volta che ci fate un tuning adeguato il drone nonostante un 90 mm che è una cosa incredibile tirava vento è molto stabile e questo è il risultato sempre che abbiamo visto prima però stabilizzato con real steady go che fa miracoli quindi pure con un tuning di default riuscite a stabilizzare se poi avete un tuning ad hoc il risultato è fantastico e questo che state vedendo invece è un esempio sempre di filmato così come lo potrete editare una volta che ci mettete le mani inserendo della color correction stabilizzato con real steady go e vedete che è fenomenale il moto cup 90 versione analogica così come esce dalla scatola con il supporto in tpu per le action cam light o naked pesa ragazzi 96 grammi circa se ci vado a mettere la mia gopro hero 6 naked con cui ho fatto i test saliamo a 124 grammi se ci mettete la 4s da 450 mAh che è la batteria che vi consiglio perché già questo drone ha un'autonomia limitata saliamo a 179 grammi un microbo che sta sotto i 180 grammi che è pensato per fare scene cinematiche innocue dove la leggerezza e le piccole dimensioni sono il requisito necessario io ho fatto vedere tutti quanti i miei test col moto whoop 90 questo microbo che devo dire che tutto sommato si è comportato anche abbastanza bene dove lo possiamo utilizzare sicuramente eccelle negli ambienti indoor questo perché è molto leggero quindi soffre se ci sono delle ventate e dovete un po' correggere specie se ci volate con i bid di default perché vi ricordo che questo qui vi arriva senza un tuning ad hoc se volete un tuning perfetto per questo drone qui visto che ci ho sbattuto la testa ho fatto innumerevoli test innumerevoli analisi alla black box ragazzi ve lo lascio sul mio patreon che trovate qui sotto in descrizione è un drone che fatica un pochetto a tirarsi su perché comunque dovete stare a una bella percentuale di throttle per sollevarlo quindi ho notato che un po' fatica e nonostante l'HGLRC ci dice che è un drone che si trasporta facilmente queste gopro naked quindi queste action cam a basso peso in realtà io l'ho sentito che soffre un pochettino infatti con una batteria 4s da 450 mAh comunque non sono riuscito a farci più di 3 minuti 3 minuti e mezzo è un microbo cioè veramente minuscolo cioè lo vedete qui nella mia mano veramente piccolo quindi vuol dire che ve lo potete portare dietro in tutte quante le occasioni e soprattutto lo potete utilizzare dovunque se avete bisogno di fare dei video ad alta definizione in dei locali in delle stanze in dei corridoi in locali al chiuso devo dire che è perfetto tenete sempre a mente che dovrete avere tante batterie perché dopo 3 minuti 3 minuti e mezzo dovete comunque atterrare non ha effetto yellow o gello o come volete chiamare mi sarei aspettato di avere un DVR super tremolante invece devo dire che si è comportato anche abbastanza bene sicuramente molto meglio di altri suoi fratellini che soffrono del morbo di Parkinson non è pensato assolutamente per farci freestyle così con questo assetto pusher ma se il vostro obiettivo è quello di fare del cinematic innocuo dovunque soprattutto pensato per quelle situazioni indoor allora potrebbe fare al caso vostro al vostro davidone è tutto ragazzi adesso spegnete il video e come al solito andate a divertire un saluto a tutti e daie